24esima giornata di campionato in promozione girone A, classico testa coda tra prima e ultima della classe, a Martinsicuro arriva l'Atria affamato di punti, non sarà facile contro la corazzata del presidente di Egidio a più 14 dal paterno seconda in classifica. Inizia bene però senza timore i reverenziali l'undici di Natali con un paio di circostanze si avvicina alla porta di Cinquegrana, però Martinsicuro quando spinge fa male qui l'occasionissima per Pezzoli, inizia la sua giornata super Morrine. Al ventunesimo l'Atria però passa in vantaggio, non poteva essere che lui, Sossio Aruta che sfrutta tutta la sua abilità aerea, supera nel duello personale Cucco e deposita le spalle di Cinquegrana, Atria in vantaggio inaspettatamente, è dura la partita per il Martinsicuro che prova comunque a pareggiare i conti, qui Morrine si deve superare su Pezzoli. Raddoppio sfiorato dall'Atria con Simone Ameli, un primo tempo di tutto rispetto degli Atriani, ripresa però tutt'altro Martinsicuro, qui ne è entrato Valentini, impegna ancora una volta Morrine che non può nulla sul colpo di testa di Davide Pallotta che insacca e ristabilisce la parità nel punteggio, primi minuti la ripresa di fuoco per il Martinsicuro che trova anche il raddoppio con Pezzoli però il guardaline ravvisa un offside. Al decimo grande giocata il Martinsicuro, Pezzoli per Valentini di controbalzo, solo il legno, ferma l'attaccante Biancazzurro, Martinsicuro raddoppia al quattordicesimo ancora con lui Davide Pallotta, schema da calcio d'angolo, cross di Vallese e perentoria incornata per la seconda volta di Pallotta che al sedicesimo va vicinissimo la incredibile tripletta personale, si supera di piedi Morrine e non conclude a rete di Paolo. Punizione venenosissima di Castagna dalla distanza, respinge in due tempi 5 grana. Martinsicuro può chiuderla, palla sui piedi dopo un'azione rocambolesca di Valentini, suo tiro finisce a lato, qui invece respinge Morrine che poi nega un paio di occasioni, la gioia del gol a Travaglini, sfortunatissimo. L'ultima occasione dell'incontro c'è la delizia, Jonathan Nepa, tunnel su un avversario e conclusione a fin di palo, finisce 2-1 per Martinsicuro, gara più sofferta di quello che ci si aspettava, ma tre punti pesantissimi. Siamo con Marco Paolini, appena finita Martinsicuro Atria, Marco vittoria, insomma come al solito mi viene da dire, ma oggi non è stato per niente facile a dispetto della classifica degli atriani, loro sono ultimi ma oggi hanno giocato da squadra che si vuole assolutamente salvare. Certo, oggi è stata una partita veramente difficile, uno che leggeva la classifica prima in inizio gara, pensavo che magari non c'era storia, è una partita facile, ma alla fine si è rivelato proprio l'esatto contrario, colpa nostra forse, autocritica, come non essere bravi a fare autocritica perché abbiamo regalato 45 minuti all'avversario, è una squadra ultima, affamata dei punti, mi è venuto a comunale per cercare almeno un punto. nel primo tempo stavo portando a casa l'interaposta e meno male che c'era la reazione, sicuramente gli spogliatoi, la scossa che avevano visto il fagnolo nei ragazzi e la reazione della squadra nel secondo tempo aveva portato a casa questi due o tre punti. Facciamo classifica e andiamo avanti. Sì, sicuramente non siete scesi oggi in campo come le altre volte, vi è mancato qualcosa, infatti il mister già nei primi 45 minuti ha scelto di fare una doppia sostituzione, è una delle due che è stata decisiva perché c'è stata una doppietta del ragazzo pallotta che appunto è subentrato. Nel finale potevate, a dire la verità, anche diragare, ma in parte merito loro che comunque se la sono giocata fino alla fine, in parte un po' di merito dei vostri attaccanti, la partita è stata in birico fino alla fine. Sì, dunque vedi, birico fino alla fine, non ce l'abbiamo fatta chiuderla, sul 3-1 abbiamo sofferto fino al 95esimo, certo non è la prima volta che il mister corregge la formazione in corso perché è successo anche a Balsorano all'annata, mi ricordo con lo stesso Ebay, il giocatore e il ragazzo non entro in partita e non vedo perché bisogna aspettare l'intervallo per sostituirlo. Il 40esimo non è in partita, il 35esimo si è in partita, si è arrivato in una partita tua e ci sono i ragazzi in banchina che come oggi un pallotto ha dimostrato, ha fatto la differenza. Sì, il vantaggio è davvero grande, adesso probabilmente la partita decisiva va di andare a giocare in terra aquilana a paterno. Com'è andare a fare una partita tra prima e seconda ma con tutto questo vantaggio? È facile allentare un po' la tensione e voi non lo dovete fare? No, bisogna stare sempre concentrati sicuramente perché è una partita a prendere con le molle perché sappiamo tutti la forza e il paterno, certo, un conto affrontarla con un distacco di due o tre punti, un conto affrontarla con un distacco almeno di quattordici, quindi oggi deve essere una partita che ci deve insegnare molte cose perché nessuna squadra ha bisogno sottovalutare né l'Atria che era l'ultima e fu guarito un po' tu, il paterno che è una squadra sulla carta e anche sul campo, poi di tutto rispetto dimostra i punti che fa. Grazie Marco, grazie a te. Ringraziamo Sossi Aluta, attaccante in forza all'Atria Calcio. Sossi, oggi si era messa benissimo per voi, nel campo più difficile del campionato, addirittura con un tuo gol eravate andato in vantaggio, poi la forza del Martinsicuro non siete riusciti a contenerla, anche se a dire il vero, anche in dieci avete davvero fatto una grande prestazione e tenuto in bilico il risultato fino alla fine. Sicuramente noi abbiamo giocato una partita aspettando che il Martinsicuro ci sottovalutasse, infatti l'approccio loro è stato negativo e invece noi siamo arrivati qui con il cortello tra i denti perché siamo una squadra che si deve salvare, siamo stati bravi, non concede nulla nei primi 45 minuti, tanto è vero che abbiamo avuto oltre la mia palla goal che ci ha portato in vantaggio, ma abbiamo anche avuto altre due palle goal che purtroppo non siamo riusciti a chiudere. E non male che poi la ripresa, Martinsicuro dopo aver si sonnecchiato per 45 minuti ha affrontato la prima parte del secondo tempo con una carica superiore e il fatto che abbiano trovato il pareggio dopo appena 3-4 minuti li ha galvanizzati, poi purtroppo la ciliegina sulla torta è stata quest'ennesima escursione di nostro giocatore meritata e a quel punto è non male che già a priori i valori erano distanti perché se loro sono primi noi siamo ultimi, un motivo c'è. Quindi una volta passati anche i svantaggi come giocatori e Martinsicuro ha trovato sempre nei primi minuti anche il raddoppio e quindi vantaggio, a quel punto per noi la strada si è messa in salita, ma devo dire che sarà stata anche il fatto che ci hanno sottovalutato, però se qualcuno oggi è venuto per la prima volta a prendere l'Atre non penso che voleva sapere che noi siamo ultimi in classifica. È una squadra nostra che è stata, tra virgolette, rinforzata negli ultimi mesi, sappiamo di dover fare un miracolo, però se poi veniamo penalizzati, come ci è successo in altre occasioni, facciamo fatica, però non molliamo. Sì, abbiamo visto un grande duello con Roberto Cucco, l'hai fatto soffrire come pochi, se insomma nonostante tu hai una certa età comunque ti tieni davvero bene in forma e abbiamo visto che hai fatto una grande partita oggi. Sì, io per fortuna ho sempre fatto solo il calciatore a certi livelli, quindi so come potremmo gestire il fatto che sono ancora in circolazione perché fisicamente sto bene e perché ho la fortuna di avere questo brutto vizio di fare ancora gol nonostante i 43 anni. Poi fisicamente, soprattutto questo campionato, rispetto a quello che io fino adesso ho affrontato nell'Emilia Romagna, è soprattutto fisico, quindi se non stai bene fisicamente alla mia età non puoi partecipare, non puoi neanche entrare in campo. Per questo non ho problemi, il problema è che purtroppo sono arrivato in una situazione critica, ho accettato questa scommessa, però spero di riuscire almeno fino alla fine a lottare, sperando di non avere, come sta succedendo, parecchie penalizzazioni, ma oggi ci stava la sua confitta. Fa male come è venuto perché alla fine di Martinsicuro è venuta fuori, soprattutto dopo l'escursione, un uomo in meno, hanno avuto 5-6 palle con nette, però ci sta. Ultima cosa, ti lasciamo andare, se i punti dal Valle da Ternofosta sono troppi oppure la prima vista oggi può riacciuffare il treno play-out? Sicuramente il nostro obiettivo è quello di arrivare a 3 punti da loro, perché la piccola fortuna su cui ci stiamo aggrappando è che loro devono venire in casa nostra, alla quattro ultima giornata, quindi stiamo cercando di arrivarci con il margine di 3 punti e giocare la partita della vita a quel giorno. Il problema è che speriamo che oggi abbia perso e quindi il distacco è rimasto di 6 punti e quindi andiamo avanti, mancano ancora 10 partite e la matematica non ci ha ancora condannato. Siamo con Davide Pallotta, oggi autentico mattatore della partita perché sei entrato tu, la tua squadra del Martinsicuro era in svantaggio e poi due gol e proprio hai ribaltato, non so quanti gol hai fatto in carriera, se sei nuovo, ma oggi è davvero una giornata che ti ricorderai a lungo. Sì, io devo ringraziare prima di tutto la società che mi ha dato fiducia all'inizio, il gruppo che mi ha portato qui e quindi mi ha reso partecipi del progetto. Poi all'inizio abbiamo iniziato un po' male perché era una partita difficile, eravamo un po' contratti visto che in domenica abbiamo pure il paterno quindi era una partita molto dura. Dopo ci siamo sbloccati e due gol miei non significano niente, questo è tutto il collettivo che ha fatto i gol. Sì, raccontaci un po' le azioni dei gol, tu entrambi sul calcio piazzato, bel tempismo, sei uno che sa muoversi, sa smarcarsi in queste occasioni. Vabbè, sono state belle palle quindi non è che è stato così difficile, però me l'hanno messa proprio in testa per fare gol. Molto modesto. Ringrazio soprattutto la squadra e il ministro che mi ha dato fiducia. Sì, una dedica per questa doppietta, a chi vuoi un pensiero in questa occasione che ti vede protagonista? A Luigi Di Marzio che è un grosso grande difuso. Ok, grazie e complimenti. Siamo anche Andrea Natalia, allenatore dell'Atria Calcio, mister, è arrivata una sconfitta e questo era, diciamo, in preventivo, però voi l'avete fatto sudare fino all'ultimo minuto la capolista Martin Sicuro, se uscivate con un pareggio, anche se le occasioni sono state tante, ma la vostra prova sicuramente forse meritava un premio maggiore. Sì, sì, sono come sempre, come tutte le partite fatte da quando ho iniziato, sono contentissimo, molto contento e del primo tempo soprattutto, perché effettivamente il primo tempo ho contato due occasioni nitide loro e due nostre, perché noi sullo 0-1 abbiamo avuto un'occasione di ottissima che è finita a fil di palo per il 2-0 e diciamo che la squadra ha risposto benissimo il primo tempo, tatticamente l'abbiamo messo in difficoltà, tant'è che il mister è stato costretto a fare anche due cambi, cioè li avevo visti abbastanza in difficoltà, però sapevo che poi è talmente un blasone importante questo Martin Sicuro che poi sarebbe tornato fuori, infatti mi ero raccomandato di mantenere quei 15-10 minuti iniziali perché sapevo che loro avrebbero spinto in maniera forsennata e purtroppo è arrivato proprio il gol di testa che non ci voleva perché abbiamo perso una marcatura e lì fa capire la loro forza, è entrato questo ragazzo bravissimo che credo ha fatto doppietta, che ha fatto veramente tanto, poi purtroppo per l'ennesima volta mi trovo a recriminare con la Terna perché sono rimasto in 10 di nuovo come due partite fa, Luco De Marse addirittura in 9 in due minuti, cioè falletti così che ti ritrovi in 10 poi contro un Martin Sicuro del genere veramente è dura, tant'è che loro dopo hanno legittimato segnando e avendo anche altre occasioni per l'amore di Dio non hanno rubato niente, noi chiaro se mantenevamo un pochino oppure riuscivamo a sfruttare il gol del 2-0 chiaramente cambiamo. La situazione di classifica che vi vede comunque in situazione molto difficile ma dicevamo con il suo calciatore Aruta che voi fate la corsa sulla penultima quindi sul Valle Aterno in questo caso e avete il vantaggio tra virgolette della partita in casa contro contro loro quindi comunque sei punti possono anche non essere troppi anche considerando la vostra prestazione di oggi Sì è chiaro, se rimaniamo agganciati considerando che il Sant'Omero pure sta avendo un piccolo calo ma noi abbiamo avuto tante opportunità che non abbiamo sfruttato nelle domeniche precedenti vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, vuoi perché rimani in 9 e la domenica dopo te ne mancano 4, con il Barzolano in casa domenica me ne mancavano 4 e abbiamo fatto fatica quindi sarà dura però non molliamo, non molliamo perché i ragazzi stanno facendo stanno allenando bene, sono convinto che se riusciamo a pizzicare questo penultimo posto poi il play out, ecco facendo bene a Martinsicuro non è detto che te lo puoi giocare bene però sono contentissimo del lavoro che sto facendo, del lavoro della squadra perché veramente tutte le partite abbiamo subito quasi sempre mai pochissimo a parte oggi contro un grande Martinsicuro e non siamo riusciti a portare a casa risultati, c'è molta anche sfortuna in tante situazioni che si sono verificate però sono molto contento della squadra